Non sono bastati giorni di proteste, si tine di una petizione che ha raggiunto 5.000 firme, perché da questa notte il pronto soccorso dell'ospedale San Gennaro ha chiuso i battenti e non effettua più interventi di emergenza. Al suo posto adesso c'è l'Opsaut, una struttura di assistenza territoriale attiva 24 ore su 24, con medici, anestesisti ed infermieri e attrezzati per ogni urgenza. Una rivoluzione prevista nel piano regionale di riordino ospedaliero dal commissario straordinario dell'Asla Napoli 1, Maurizio Schioppa, ma che ha scatenato tensioni e polemiche tra gli abitanti del rione Sanità. A loro fianco, per tutelare il diritto alla salute sancito dalla Costituzione, si è schierato anche il sindaco De Magistris, che in qualità di massima autorità sanitaria è intervenuto più volte per chiedere la sospensione di un provvedimento che ha definito il responsabile ingiusto e sollecitare il governatore Caldoro a convocare un tavolo tecnico con i soggetti interessati. Nella nuova struttura territoriale, oltre agli infermieri, è stata ripristinata anche la figura di un chirurgo e di un anestesista rianimatore, ma il Comitato Popolare contro la chiusura dell'ospedale non ci sta e annuncia il prosieguo della mobilitazione contro la soppressione del presidio sanitario.